E' stato approvato questa mattina durante i lavori della nona commissione consigliare il regolamento concernente le installazioni di impianti di radio telecomunicazioni nel territorio del comune di Messina. La mozione proposta dal consigliere comunale Nino Interdonato, componente del comitato ANCI Giovani Sicilia, prevede la sottoscrizione da parte del comune di Messina del protocollo ANCI, siglato con le principali compagnie telefoniche che consentirà di mettere a reddito, secondo importi di respiro nazionale, gli impianti di trasmissione installati sui beni comunali. Aderendo al protocollo approvato in commissione, ha precisato l'esponente di Sicilia Futura, il nostro comune incasserà dalle compagnie telefoniche i canoni nazionali previsti dal protocollo nazionale ANCI per l'installazione di impianti di telecomunicazioni su beni di proprietà comunale. Attualmente, a concluso Interdonato, molti di questi beni rappresentano solo un costo ambientale a carico di tutti i cittadini. Diversamente, aderendo all'accordo, si potrà anche dare un po' di respiro alle sfittiche casse comunali.